Sesta puntata di Pianeta Dilettanti in compagnia dei centrocampisti del Porcari, Davide Picchi e Andrea Ferretti. Abbiamo visto Davide Picchi, giocatore esperto che ha girato tante squadre, ce l'ha raccontato, e Andrea Ferretti decisamente più giovane dalle giovanili della Lucchese, frenato, ci ha raccontato purtroppo da qualche infortunio. Davide, tornando a te e a questa tua carriera che comincia a essere già abbastanza lunga, ci hai raccontato sei stato in diverse squadre. Qual è il periodo più bello? Dov'è che ti sei tolto le maggiori soddisfazioni? Sì, senz'altro. La squadra dove sono stato più anni sono stati i quattro anni a fila a Maglia, dove abbiamo raggiunto la vittoria play-off. Poi non siamo stati ripescati per il punteggio, però sono stati degli anni dove non sono divertito. Rischiando di fare l'eccellenza. Poi ci fu l'anno che fa lì la Lucchese, che andò in eccellenza, i posti erano ridotti. Quindi insomma i fallimenti della Lucchese, tutto per un motivo, Andrea per l'altro l'avete vissuto. Quindi in pratica nulla, sei ex anche della Folgor, anzi è della Folgor più che mai un ex, ed è il campionato della tua ex Folgor, cosa ne dici? Mi pare che adesso si siano un po' ripresi, però anche loro sono lì a lottare con voi. Sì, hanno gli stessi punti vostri dall'altro. C'è lo scontro a porcare. Ah, ci sarà lo scontro a porcare, quindi lì sarà una partita doppiamente delicata. Fra quanto? Penso fra tre o quattro partite. Quindi quando saremo proprio nella volata finale. Non ci sarà volata invece, caro Andrea, nel campionato di eccellenza. Adesso vediamo i risultati della ventiquattresima giornata, che casomai ancora una volta hanno ribadito. Ora prima vinceva l'Argora con punteggi quasi proprio tennistici, 4-6. Vabbè, Castelfiorentino, Ghivizzano, Borgamozzano. Continua questo periodo davvero nero per il Ghivizzano, Borgamozzano, che ha perso 2-1. Cenaia, Monsummano, 2-1. L'Arcianese, Castelnuovo, 2-0. Beh, lo dicevamo prima così, che dobbiamo anche un po' scherzarci su. A Bangioni dicevamo nel discorso, Walter, di solito venire a pianeta di retanti porta bene, non è andata bene a loro. Ora Walter non vorrà più venire sicuramente. Pro Livorno, Pescio, Arcianese, 3-3. Quarrata, Lammari, 1-0. Dopo un lungo periodo quindi sconfitto anche Lammari. Non è stata una gran giornata per le nostre. Rosignano, Pietrasanta, Marina, 2-2. E San Marco Avenza, Ponsacco, guardate un po', 4-6. Riposava l'Urbino Taccola, la classifica. Qui dobbiamo ricordare che sotto il Monsummano c'è virtualmente la Fortis, che è stata esclusa dalla campionata. Quindi qui ci saranno solo il play-out, l'ultimo posto per la retrocessione diretta. Si è già giocato la Fortis. Ponsacco, 58. Pietrasanta, 45. Castelnuovo, 41. L'Arcianese, 40. Lammari, 30. In questo momento, considerando che tra Pietrasanta e Lammari ci sono 15 punti, quindi ben più dei 10 previsti, ci sarebbe un solo spareggio, quello tra Castelnuovo e l'Arcianese, che sono separate, vedete, da un solo punto. Poi cosa possiamo dire? Che qui, beh, dai 30 in giù poi rischiano tutte. Perché la quintultima è a 25, quindi mentre mi pare che San Marco Avenza e Monsummano ormai siano già avviate al loro destino di giocarsi nulla, di giocarsi comunque i play-out. Andrea, comincio da te. Ponsacco, Uberalles, come direbbero i tedeschi, non c'è stato nulla da fare, non c'è nulla da fare. Una squadra nettamente superiore che, tra l'altro, anche con un vantaggio così netto, continua a vincere e a mandare in gol i suoi formidabili attaccanti, almeno per questa categoria. No, il Ponsacco è nato quest'anno per vincere il campionato a giocatori di categoria, come Fiale. Superiore? Superiore. Innettamente superiore. Penso che sia già finito il campionato per la vittoria. Ci ha mai creduto Davide che qualcuno potesse contrastare questo Ponsacco a un certo punto? No, penso di no. Vedo che anche nella fase nazionale di Coppa sta andando avanti senza problemi. Sembra in settimana abbia vinto con quella dell'Emilia Romagna, è una squadra costruita per vincere. Sembra un'altra assata. Ora, non so, dire da triplete, magari dico una stupidata perché non c'è il triplete, quello che noi ricordiamo quattro anni fa. Però è sicuramente da fare man bassa di tutto quello che c'è. Sì, senza altro. Vabbè, per quanto riguarda invece, vediamo qualche immagine del Castelnuovo, perché invece dobbiamo dire che purtroppo il Castelnuovo è incappato in questa sconfitta per 2-0 sul campo della Larcianese. Sapevamo che per il giallo-blu questa era una partita piuttosto complicata perché la Larcianese aveva la possibilità di avvicinarsi e chissà che questo confronto di ieri, tra l'altro, non sia anche preludio a quello che potrebbe essere poi anche uno spareggio a play-off. Andrea, tu vivi a Fornaci, quindi insomma le vicende del Castelnuovo le conosci anche abbastanza da vicino. Al di là della sconfitta di ieri, un Castelnuovo che però sulla scia dei suoi intramontabili senatori Biggi, Micchi e Pennucci sta comunque disputando, mi pare, un bel campionato. Sì, sì, sta facendo anche magari sopra le aspettative. Poi è una squadra che comunque ha tutti i giocatori del posto, comunque della Garfagnana, quindi va apprezzata a maggior ragione. Ha tanti giovani, qualcuno ci ha anche giocato, quindi lo conosco. Eh, facci qualche nome allora. Come Filippi, che è stato anche lui alla Lucchese, ha fatto la Berretti alla Lucchese. Lo stesso Borgia conosco, Biggi, mi ci allenava un prima squadra alla Lucchese. No, è una squadra, è una buonissima squadra per la categoria. Quindi secondo te possono, ce lo dicevano lunedì scorso quando erano qui da noi anche i dirigenti, insomma loro sono già ampiamente soddisfatti, però a questo punto possono forse anche ambire, insomma, play-off a cercare di giocarseli in un certo senso. Ma io penso proprio di sì. Conoscendo anche il carattere, insomma, di alcuni giocatori, penso che se la vorranno lottare fino a un fondo. Davide, l'altra squadra che sta andando bene è Pietrasanta Marina, mi sembra, no? Sì, 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 Pietrasanta sta facendo molto meglio dell'ambizione. E' stata l'unica delle nostre, quando dico nostre, dico quelle della provincia, a non perdere. Non perdere, sì. A Rosignano è contro un avversario che comunque da quelle parti non è mai facile giocare. No, ma io penso che il campionato delle Lucchesi di eccellenza, che è un campionato molto difficile, siano sopra le aspettative per tutte e tre le squadre. Mi sembra che siano tre, Pietrasanta, Marina di Castelnovo. Ricordando, non so se... Givizzano, eh, Givizzano. Che invece... Givizzano è mai giocato, no? Contro. Contro. Ecco, forse dal Givizzano-Borgamozzano, lo stiamo dicendo, purtroppo da qualche settimana ci si aspettava qualcosa di più. Il problema ora, io non so se Matteo adesso, che qui coinvolgo di nuovo Andrea, che è di quelle parti, ci può riproporre la classifica. Il problema ora è che, Andrea, una squadra come il Givizzano-Borgamozzano, ci diceva lunedì scorso Vangioni, all'inizio pensavo che noi dovessimo essere nella posizione di Givizzano-Borgamozzano e loro nella nostra posizione. Il problema è che adesso la squadra del Giviborgo, come l'abbiamo ribattezzata noi, è lì. È lì e purtroppo dobbiamo dirlo. Può anche rischiare, perché non mi pare che il momento sia particolarmente propizio. C'è una squadra che è partita con altri obiettivi, puoi trovarsi lì? No, sicuramente non è la zona di classifica che gli spetta, perché la rosa è per lottare e per vincere il campionato, però penso che non sia un problema la salvezza per una squadra del genere. Quindi dici che si risolleveranno? Secondo me sì. Secondo te non rischiano un coinvolgimento nel play-out? Poi te l'ho detto, il calcio poi è strano, però comunque per la squadra che sono hanno le potenzialità di salvarsi tranquillamente. Davide, ti è mai successo in carriera di partire con una squadra? A parte il caso di quest'anno, che comunque eravate anche neopromossi, questo non bisogna dimenticare, però nelle altre esperienze di partire per fare un certo tipo di campionato e poi si può complicare un po' a un certo punto, perché già mancano poche partite. Può succedere, certo. Guarda, la classifica d'eccellenza è un campionato molto difficile. Vedo il Pesciolzanese che l'anno scorso ha fatto le finali per andare in Serie D, addirittura terzo-ultimo. Ecco, se rimaniamo su questa classifica, perché a questo punto della stagione è bene un po' memorizzarle, abbiamo detto che l'ultimo posto, quello che manca, quello vuoto, è purtroppo della Fortis e quindi non ci sarà qui la retrocessione diretta. E fermo restando che Monsummano e San Marco Avenza si giocheranno penultimo e terzultimo posto, restano ad attribuire purtroppo altri due posti per andare a spareggiare con San Marco Avenza e Monsummano, sempre che c'è la forbice, perché non bisogna dimenticare quello, no Andrea? C'è la forbice, che in questo momento, se non sbaglio, aiutatemi, forse farebbe sì che ci sono dieci punti tra, forse non lo so, ci sono nove punti tra San Marco Avenza e Pescia, quindi dovremmo essere al limite qui, siamo veramente al limite, perché se San Marco Avenza e Monsummano non si decidono ad accorciare questa forbice, possono rischiare anche ad andare giù, direttamente, no? Eh, quindi, insomma, le squadre che sono dai 27 punti e giù di lì, credo che possono sperare anche in questa soluzione, a quel punto no, non ci sarebbero complicazioni. Ecco, queste forbici di 8-10 punti, giuste, non giuste? È una regola che è in questi due anni, tipo io l'anno scorso ero a giocare a Villa Basilica, ho soffruito di fare i play-off per questa forbice. Perché avevi meno di 8 punti? No, perché c'è stata un'altra squadra che ci ha salvato, che aveva meno di 10, quindi noi abbiamo fatto la semifinale play-off. Ho capito. Ma forse per evitare che a un certo punto della stagione ci fossero squadre che giocavano, non dico all'acqua di rose, no? No, Andrea, poi le motivazioni alla fine fanno la differenza, no? Sì, no, è una regola giusta, secondo me. Giustissima, sì, direi proprio di sì. Bisognava fare qualcosa, perché anche nel calcio dilettantistico per tanti anni vedevamo delle partite all'acqua di rose o addirittura scontate, nel senso che una squadra che aveva bisogno di punti andava a giocare contro una squadra che era un po' disinteressata e poi succedeva che c'erano dei risultati strani, no? Senza andare a cercare illeciti e cose del genere. Ci fermiamo ancora, poi torniamo al campionato di promozione, dove, insomma, eravamo a sperare fino a poche settimane fa che il campionato di promozione fosse avvincente, combattutissimo, beh, dobbiamo a questo punto più che mai, credo, affidarci ai due recuperi della Real Forte Querceta, che se Real Forte Querceta vince questi due recuperi, è un discorso, se Real Forte Querceta in uno di questi due recuperi stecca, allora, mi sa che è anche questo campionato il discorso primo posto, è bello e finito. Ne parliamo tra poco, così come faremo il punto anche sul campionato di seconda categoria, dove le grandi o presunte tali, vedi Piano di Goreglia, sono andate un po' in, non voglio dire in crisi, ma perlomeno in difficoltà. Grazie.